Ciao Alfredo, sto partendo in questo momento. Il tizio che ho incontrato ieri sera mi ha dato delle informazioni molto importanti. Al mio ritorno ti racconto tutto. Non stare in pensiero. Questa vacanza potrebbe farmi bene. Tornerò presto. Un bacio. C'è nessuno? Mia sorella ha soltanto 25 anni. È scomparsa da tre mesi e nessuno si è preoccupato di cercarla. Chiunque entra a Timere, resta a Timere. Una bestia. Un mostro. Il male vestito da uomo. Un stasiccio da uomo. Un colpo. Un potente. No!